Cammina sulle montagne, cammina sulla sabbia, cammina nel deserto, cammina da tutte le parti signori e signori, il mio amico Alberto, Alberto è il numero uno, Alberto conosciuto tre anni fa, non si ferma mai, tutte le mattine puntuale, lui arriva, scala i suoi sassi e piava, guardate con che movimento fluido da gazzella delle montagne, guardate, a bello finale, vado a vedere, pop pop pop, Gollerni, il mio amico Alberto signori, non si ferma mai, non ci possiamo fermare, insomma, come mai, se volessi passeggiare? Per due motivi, la prima è perché mi piace il mare, la mattina, la più che altro è perché la sera abbiamo gli incontri di pallavolo con delle persone più giovani, quindi almeno per rimanere in quel giro si è un po' allenato, hai ragione, hai ragione, quindi te più giochi anche a pallavolo, si, sei una scoperta, no, perché tanti anni lo faccio, però cambia di ragazzi, e allora bisogna trattare insomma, che te ne lascia a fare, va bene, un saluto al nostro amico Alberto, arrivederci, il mio amico Alberto, a presto, a presto, a presto, a presto. Grazie.